Io vi permetto soltanto di suggerirvi, facciamo un po' più di silenzio. Questa settimana che inizia oggi sia una settimana in cui stiamo di più con il Signore. Troviamo il tempo necessario. Certo avremo sempre le solite preoccupazioni, ma troviamo il tempo di stare con il Signore. Che il Signore ci conceda davvero di vivere nel silenzio, nella preghiera, nel raccoglimento, anche nelle manifestazioni pubbliche che vivremo insieme. Ma sempre nel raccoglimento, perché è ciò che conta, ciò che deve essere nel cuore di noi. Vedere tutto ciò che fa il Signore, in tutta la sua esperienza di morte e di risurrezione. Il Giove di Santo, il Vede di Santo, soprattutto il Sabato Santo. Il Sabato Santo deve essere un giorno di silenzio. Non preoccupiamoci di preparare il pranzo della domenica. Certamente sarà anche un bel momento, ma facciamo silenzio. Il silenzio e il Sabato Santo. Che poi tante volte facciamo fatica a scoprire e a dire. perché insieme possiamo domenica prossima gioire della risurrezione del Signore.